Quali sono i più comuni sintomi di degenerazione maculare? La degenerazione maculare, una malattia progressiva degli occhi che comporta la graduale degenerazione della macula, un'area al centro dell'occhio, è accompagnata da una varietà di sintomi, che ruotano attorno ai cambiamenti della visione. La degenerazione maculare è più comune negli adulti di età superiore ai 50 anni e, se le persone riconoscono i sintomi della degenerazione maculare, dovrebbero cercare cure mediche in modo che possano ricevere una diagnosi e discutere le loro opzioni con un medico. I pazienti devono anche essere consapevoli che la degenerazione maculare è indolore e, se il dolore accompagna i problemi della vista, la degenerazione maculare non è responsabile dei cambiamenti. Questa condizione di solito si verifica lentamente nel corso del tempo, rendendo molto graduale l'inizio dei sintomi della degenerazione maculare. Molti pazienti non si rendono conto dell'entità del danno perché iniziano ad usare qualsiasi occhio sia meglio fino a quando i sintomi non crescono così male da essere facilmente evidenti. Esami di visione regolari possono essere utilizzati per rilevare la degenerazione maculare nelle fasi iniziali e per identificare altre condizioni oculari che potrebbero essere curabili e completamente curabili negli altri stadi, come la retinopatia diabetica. Le persone con degenerazione maculare non diventeranno cieche, ma il centro della loro visione diventerà gradualmente oscurato, il che può rendere difficile svolgere compiti di base. I sintomi della degenerazione maculare spesso iniziano con visione offuscata o sfocata a difficoltà nel vedere gli oggetti da vicino o nella lunga distanza. Col tempo, le persone possono sviluppare punti ciechi e segni nei loro occhi che sono distratti o irritanti. Uno dei classici sintomi della degenerazione maculare può essere illustrato con l'uso di una griglia di linee rette. Mentre la degenerazione progredisce, le linee rette appariranno piegate nell'occhio afflitto, il che significa che una griglia non verrà letta come un quadrato, con il paziente che si lamenta che le linee si piegano e che i quadrati nella griglia sono deformati. I sintomi della degenerazione maculare possono anche comportare una differenza nella percezione del colore e nell'acuità visiva tra gli occhi e nella distorsione delle forme tra gli occhi. Ad esempio, un occhio potrebbe percepire una linea gialla sulla strada come relativamente diritta, mentre l'altra potrebbe pensare che si stia piegando. Molte persone con degenerazione maculare manifestano anche problemi di vista nella loro visione e in genere hanno problemi in ambienti con scarsa illuminazione. Potrebbero iniziare a utilizzare più luci per vedere quando si lavora su progetti, o sentirsi scombussolati nelle stanze buie. Le allucinazioni sono un altro sintomo della degenerazione maculare che può verificarsi in alcuni pazienti.